Ciao, mi chiamo Jessica, sono iscritta alla Digilio Academy come amatoriale, ho visto la mia passione per i dolci. Stavo cercando un corso da poter svolgere a casa nel tempo libero. Ho fatto diversi corsi sia in presenza che online con pasticceri più famosi, ma quando ho visto Andrea ero un po' indecisa all'inizio, sì, perché comunque negli ultimi tempi stavo seguendo dei pasticceri dai famosi e quindi non pensavo proprio che avrei trovato lo stesso, forse anche di più, in un corso come quello di Andrea. Dopo aver visto le sue lezioni gratis, quelle gratuite che potete vedere tutti quanti, e mi sono appassionata al suo modo di spiegare le cose sia per il suo sapere, per la sua bravura, per quanto è preparato. Quindi in questo modo ho visto che comunque insegna sia amatoriali che a professionisti, quindi è aperto a tutti, e niente, Andrea si vede proprio che è appassionato di quello che fa, quindi lo spiega, lo insegna, in modo che ti arriva proprio.